Ancora un caso di degrado e di inciviltà ad Ostia Antica, esattamente in via del collettore primario. Federico Virgari. Un quadrato di polistirolo bianco attaccato con del fil di ferro, una ringhiera e una scritta con calligrafia incerta che dice agli operatori ecologici, grazie. Una provocazione forse, un segno di degrado e inciviltà sicuramente. Siamo ad Ostia Antica, in via del collettore primario, dove è sorta l'ennesima discarica abusiva. La segnalazione ci giunge dall'Associazione Salviamo Ostia Antica, che in maniera sarcastica parla di nuova isola ecologica gratuita a disposizione degli incivili incalliti senza nessun ritegno. Nonostante i problemi che stanno affliggendo il quartiere, tra cantieri che sfornano i comostri, abitazioni inagibili, alberi che cadono e strade impercorribili, a poche centinaia di metri da uno dei poli archeologici più importanti del paese, si continua a fare i conti con chi abbandona senza alcuna remora rifiuti ingombranti o buste con rifiuti organici quotidiani. Frutto di chi non è dotato dell'educazione e della buona creanza di arrivare al più vicino cassonetto o postazioni di smaltimento ufficiale, devastando così un ecosistema e la sua reputazione turistica.